E' arrivato intorno alle 18.45 il pellegrinaggio promosso e l'organizzato dalla comunità parrocchiale di Villalba guidato dall'arciprete parroco padre Achille Lomando. Un pullman e diverse macchine hanno raggiunto il largo Annivina, da dove poi è snodato il pellegrinaggio in direzione del Santuario Maria Santissima dei Miracoli. Fra i pellegrini villalbesi c'erano anche il componente della congregazione di San Giuseppe e quella della confraternita del Santissimo Sacramento. Al santuario c'erano riservati i posti proprio per loro, per i pellegrini villalbesi, che hanno subito iniziato la preghiera con i canti mariani. E' tutto questo per il tutto il tempo antecedente dell'inizio dei Vespa e dei Sopri. A quale congregazione appartenete? San Giuseppe. San Giuseppe. La congregazione di San Giuseppe di Villalba. Ecco, in quanti siete arrivati a Mussomeli? Molti, molti. Una cinquantina. Una cinquantina? Una cinquantina di congregati. Sopri. E allora la comunità parrocchiale di Villalba, ai piedi della Madonna dei Miracoli stasera. Cosa farete? No, il pallegrinaggio da Villalba con la cera, abbiamo portato un gesto di cera, più tutte le cera. Sopri. di Dio prega per noi peccatori, la legge che è l'ordine della nostra morte, ame. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, la legge che è l'ordine della nostra morte, ame. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, la legge che è l'ordine della nostra morte, ave Maria piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, e la legge che è l'ordine della nostra morte, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito santo, e nel figlio di Dio, sempre, nei secoli, nei secoli, nei secoli, ame. Maria Santissima, le miracoli, prega per noi, Gesù mio, perdona le nostre colpe, e sempre c'è la scuola dell'inverno, oltre in cielo tutte le armi, specialmente l'Espituzione della tua infinita, se non è l'ordine. E intanto, come potete ascoltare, le campagne dell'Essantualo invitano a partecipare ai Vespri Vespri Solenni, previsti per gli eventi, Vespri Solenni, a cui parteciperanno le autorità religiose, civili e militari. e la comunità parrocchiale di Villalba canta il milaico popolo, un canto mariano popolare. RISPRA ASSITE Viene lassù, sei coronata, sei madre e maurata, e padre di Gesù. Viene lassù, sei coronata, sei coronata, e padre di Gesù. Viene lassù, 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 sei coronata, e padre di Gesù. Sei coronata, e padre di Gesù. Viene lassù, sei coronata, e padre di Gesù. Viene lassù, sei coronata, e padre di Gesù. Viene lassù, sei coronata, e padre di Gesù. Vieneаль. Viene lassù, sei coronata, e padre di Gesù. Viene lassù, sei coronata, e padre di Gesù. Viene lassù, sei coronata, e padre di Gesù. Grazie a tutti. 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 Ecco qui nel santuario è arrivato il pellegrinaggio della comunità parrocchiale di Villalba. Con noi abbiamo la professoressa Maria Carmela Scolzeri, proprio qui davanti al santuario. Come nasce questo pellegrinaggio, questo primo pellegrinaggio alla vigilia della Madonna dei Miracoli e che arriva da Villalba? È una nuova iniziativa che parte dal fatto di dover offrire la cera per tutti i giorni dell'anno in corso, dell'anno prossimo e di portare un paese della comunità, quindi qui dei paesi limitrofi, offre la cera alla Madonna per poter alimentare tutto l'anno questo simbolo della fede. Tenere alimentato questo simbolo della fede e quest'anno ha iniziato la comunità parrocchiale di Villalba e siamo qui in rappresentanza a consegnare questa cera al santuario, quindi alla Madonna. Lei personalmente conosceva la Madonna dei Miracoli, questa festa, c'è stata altre volte? Sì, qualche volta ho partecipato alla processione della domenica, al Vespro non ho mai partecipato, però sì, la Madonna dei Miracoli è una festa molto sentita nei paesi limitrofi, oltre che a Mussomeli. La comunità di Villalba, ai piedi della Madonna dei Miracoli, chiederà qualche cosa? Io penso che in particolare si chiede sicuramente un aumento della fede nella propria comunità e in tutti quanti, in particolare per la nostra comunità, quindi una maggiore partecipazione, un maggior coinvolgimento da parte di tutti, da parte dei giovani, questo diciamo che è il fine ultimo. Grazie a tutti!